ciallottina vendicativa giusto no vabbè ciallottina io non lo sapevo niente niente puoi guardare che è successo? niente a me sembrava strano dove veniva ho ragione te l'ho detto forse eccoli wow ora capisco perché sei così infissa coi fenicotteri sono così rosa e sai che diventano sempre più rosa? più passa il tempo e più il loro colore diventa vivo loro si migliorano sempre questo oggi è speciale è il mio posto del cuore mi sa che diventerà anche il mio posto preferito ok dai abbiamo quasi fatto ci siamo casi no non lo diciamo a nessuno perché noi dobbiamo preparare il cibo non mangiare aspetta fammi vedere a che punto sono loro così magari non siamo troppo in ritardo noi a che punto siete? è a noi quasi finito proprio è una testa bellissima bene l'allestimento quasi ci siamo perfetto manca ecco mancano loro e ciao siete pronti per il nostro Flamingo Watch Party? siamo prontissimo ho portato un po' di cose anch'io mi troverò di vedere il mio film su Netflix siete carichi? prontissimo anche tu sei pronto Giovanni ok grazie basta per darti il benvenuto nel nostro Flamingo Watch Party grazie dobbiamo fare qualcosa? si allora io ho preparato la lista di tutte le cose da fare ok il cibo ci stiamo pensando io e Giovanni l'allestimento ci sta pensando Augusto e Margherita e voi penserete al cocktail questa è la postazione bar ok dove sarete pronti bene quindi la sfida sarà proprio questa chi riesce a preparare il proprio compito più velocemente e meglio iville navigate ääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääreea grazie dai fermiti Giovanni guarda mi hanno portato questo come cibo ok devo farlo meglio carico vai da che cosa si parte però? allora direi dall'ananas ananas prendi Infilo queste, per topo Così viene un buon alasso Super festaiola Vado a prendere le forbici, vediamo se sono andata da parte Dobbiamo mangiare tanto Perché io ho tanta fame A trovate le forbici, dai giovani dobbiamo essere velozissimi Questi sono i passaggi fondamentali per il nostro flamingo watch party Che potete utilizzare anche voi per vedere il mio film su netflix A che punto siete? Mettiamo qua quello, aspetta Chi non è che ci arrivo? Allora i nostri cocktail analcolici sono buonissimi Abbiamo mischiato il succo esatico Con l'aranciata E poi delle cannucce speciali per dei vip come noi Ovviamente Hai mescolato bene vero? Si sto mescolando Senti che profumo I palloncini, Margherita, veloce veloce E chi ce la fa? Dai Augusto, non ce la fai nemmeno a gonfiare un palloncino Ma queste cannucce non ce l'hanno così Abbastanza Dobbiamo cambiare, aspetta Allora queste tue patatine ti assomigliano Ti faccio il più bello di questo recipiente Allora vorrei far notare che il topolino è uguale a lui E mi sa bene anche il recipiente Fate screenshot Dai continuiamo Dai veloce Allora Il leone La scimmia Ok Mettiamo Questo qui rosa Perché ovviamente si abbina a me Perfetto È proprio fatto Grazie Giovanni Lo so Lo so Guardami per la prossima volta Prendi Qua Ok Putti qui dentro Chiudi E poi Così E poi Così Guardi Guardi Ho appena trovato questa macchina Che ci si può confiare palloncini Ora Non si stupi 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 quando voi non ci vedevate Charlotte ha suri scalato la macchina per fare i pop corn quindi adesso ci toccherebbe togliere tutti i semi che sono all'interno si ho bruciato un po' di pop corn ma non è colpa mia colpa sua non è vero ti ho aiutato pure lei non ci stava dimenticando doveva metterla giusto facciamola noi noi siamo primi no cocktail fatti Manca solo il cibo Esatto, quello che stanno ancora preparando in cucina Quanto vi manca? Non sono riuscita ad accendere gli altri Quindi accontentatemi Abbiamo vinto? Siamo gli ultimi arrivati Non ci credo Può capitare Vabbè il cibo è quello più difficile da preparare Abbiamo poppana Allora, voi che siete arrivati ritardo Vi diamo un bracciale Vabbè, grazie Dovete anche segnare qua, che avete finito Segni tu Dai, ma siamo arrivati ultimi Ci avete messo troppo Abbiamo vinto io e Leo Allora, visto che voi siete stati lentissimi Io nel mento ho preparato delle sfide Andiamo Ok, facciamo Le sfide Allora ragazzi, siete pronti Adesso peschiamo per le sfide Ok? Chiudiamo gli occhi Peschiamo, peschiamo, peschiamo Ti amo Scrivilo alla tua crush Alessandra Questo è per Alessandra Non facciamo scrivere l'essandra No, 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 no No, no, no No, no, no Te lo vado a prendere subito No, ragazzi Ma proprio a me Spero queste sfide vai devi scriverlo faccio vedere vediamo a chi arriverà il messaggio vediamo vediamo ha mandato il messaggio ma giovanni io spero che non sia il tuo messaggio vediamo se è il suo messaggio no c'è il suo messaggio aspetta ti amo ma ancora io spero sia uno scherzo che è la prossima sfida chiama la migliore amica del film chiamare scusate cosa cosa chiamare la migliore amica del film ok quindi dobbiamo chiamare sofia così vediamo se qualcuno di voi non si innamora di lei vediamo vediamo vabbè questo è per te si certifica che da oggi in cielo brilla una stella denominata sofia e charlotte cioè mi hai regalato una stella sì noi due insieme brilleremo per sempre nel cielo guarda questa app ti aiuta a trovarla ovunque tu sia quella è l'orsa maggiore non la vedo ah sì eccola lì c'è cassiopea e quella invece è la nostra stella eccola guardavo sempre le stelle da piccola con la nonna mi ha insegnato lei a riconoscerle anche senza l'app e non hai ancora visto il meglio domani ti porto nel mio posto preferito al mondo allora chiamiamo alicia la mia allora si chiama alicia però nel film si chiama sofia vediamo ciao 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 ehi una domanda rapida rapida ma sei davvero la migliore amica di charlotte certo che lo so ok ok era una domanda tra bocchetto ok ok era una domanda tra bocchetto si avete già visto il film di charlotte su netflix tra poco lo vediamo tra poco lo vediamo abbiamo preparato un magnifico watch party guarda è tutto pronto l'archivo è pronto netflix è pronto per essere guardato è tutto rosa si è anche il mio vestito un bacio ciao 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 vai mi sento questo chi fa più addominali tra i maschi no ma io non sono buono ragazzi no no ma che dai ragazzi togliamo i palloncini vai leo pronti ok togliamo gli addominali pronti 3 2 1 via 1 2 veloci 3 4 oh io sono i più veloci è sei siete otto nove nove dieci uno dieci dodici tredici quattordici dodici tredici quattordici tredici quattordici vaffa 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 vabbè non tutte le sciambelle escono con il buco io ora ho sbagliato vabbè ci sarà un'altra occasione da me ok 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 vado vado quanti ne rimangano? uno? ah no due questo allora chi balla meglio tra le coppie vince una gara di ballo chi balla meglio? ok 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 mettiamo la musica e anche bene io me l'ho cazzo balla io io non so ballare non so ballar 15 seconda Ok, per volta. Iliac, per volta. Avanti, qui? Ok, entusiando. Un'altra volta! Se può riuscire a fare questa scada? Come a te, io volo delle nuvole. Come se ci conoscessimo da sempre. Così diversi negli sguardi, ma così uguali al flamingo party. Ok, il nostro magnifico flamingo watch party è pronto. E scrivete giù nei commenti chi è stato più bravo a ballare. La coppia più brava ovviamente è Charlotte e Giovanni. Siamo al minimo. Esattamente. Charlotte e Giovanni di Margherita e Augusto. No! Loro no! E chi è riuscito a preparare meglio le cose per il watch party. Quindi, siete pronti? Il film ci aspetta su Netflix. Pronti a guardarlo? Pronti? 3, 2, 1, via! Ok, let's go! No! Nooo! Ma è Giovanni! Iniziamo bene! Iniziamo bene! Non l'ha aspettato da lui. Tadà! Ho detto a chi vuoi sapere cosa c'è qua dentro? Lo scoprirei stasera quando saremo in campagna. Cazzico da Charlotte! Cazzico! Cazzico! Sono partita proprio direte! Come sei cattiva mamma mia! No, non sono cattiva! Lo sto sfidando e basta! Oh, comunque è bravo Davide a cantare! Molto meglio Charlotte! Esatto! Ok! Chi vota per Davide? Nessuno! No, ma è per me è assolutamente un compromesso! Ok, ok! Ma non puoi confrontarle! È meglio Charlotte 100 volte! Charlotte, va come vi guardate! Che cari! Ma poi vi fidanzate, vero? Ecco, appunto! Cioè, è sturo! Eh, esatto! Cioè, bisogna saperlo! Bisogna mandarlo al giornale! No, no! In tante parte la scelta! Allora ragazzi, io non vi spero di niente! Intanto guardate! Per me qualcosa ci sarà! Anche per me! Ma è ovvio! Guarda come si guardano! Ma come ti guarda? C'è davvero molta traccia! Ma chi è Davide? Sì! Eh! Se no chi? Lo sai! Geroso! Non c'è stata risposta! Quindi chissà ci acconsente! Zitta! Oddio! 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 Ma non c'è niente! Cosa vuoi che succede? Dai Giovanni! Dai Giovanni! No no no! È vero! Ha ragione! Stanno giocando con la pittura! Dai Giovanni! Tagli Romano! Dai! È una scena bellissima questa! Tagli! Tagli! Dai! No ha ragione! Non sei esagerato! Ciao! 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 Grazie! Abbracciole di gruppo! Con Margherita che piange! Musso anche! Così! Eh! Saluto! Eh! Uh! Uh! Andate a vedere! Shalom e il film! Flamingo Party! Sul Netflix! E inoltre fate anche il Flamingo Watch Party! Che merita un sacco! Eeeeeee! Ciao ciao! Ciao! Faccioli!